James Jazz Association Music and Soul è una nuova realtà nel panorama musicale abruzzese che nasce dalla voglia di condividere la passione per la buona musica dal vivo. L'associazione, preseduta da Modesto Lanci, gode del contributo di due pianisti d'eccezione, Marco Fumo e Michele Di Toro, che firmano la codirezione artistica dell'associazione e della segna omonima. Tra i punti di forza c'è la vocazione itinerante del programma concertistico. I primi sei appuntamenti si terranno dal 2 febbraio al 22 maggio e saranno organizzati su palcoscenici diversi, dal Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara al Teatro Marrucino di Chieti all'Auditorium della Scuola Civica Musicale di Montesilvano. La musica jazz la guardiamo attraverso i suoi rapporti con altri generi musicali e quindi ogni concerto avrà una sua fisionomia ben precisa e sarà anche, questa è un'altra caratteristica, sarà preceduto da una breve guida all'ascolto che possa appunto analizzare e introdurre gli ascoltatori a quello che è l'argomento della serata. Primo appuntamento è il 2 febbraio alle ore 21 al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara con il pianista Enrico Pierannunzi. Ho scelto in base a un progetto ben preciso che per questo primo semestre riguarda il confronto tra la musica classica e la musica americana, quindi il jazz. Quindi abbiamo scelto artisti che avessero dei progetti molto interessanti al riguardo e quindi i pierannunzi che avremo tra qualche giorno l'occasione di ascoltare. Grazie.